Ok ragazzi, ma tutte le macchine con cambio automatico portano un convertitore di coppia? Ragazzi, ve li ho fatti due o tre video dove vi ho spiegato che non tutte le autovetture portano un convertitore di coppia. Perché? Perché ci sono diverse tipologie di cambio, come un doppia frizione, come un cambio CVT, come il cambio automatico classico. Benissimo, questa se andiamo a vedere, abbiamo un cambio automatico CVT, dove CVT può montare anche il convertitore di coppia. Questa, su questa autovettura, abbiamo per dire un volano bimassa. Quindi, è come se abbiamo un classico cambio manuale, ma le frizioni sono totalmente diverse, perché poi sono poste al suo interno nel cambio, quindi sono frizione bagno d'olio, il cambio CVT ve l'ho spiegato in un altro video, non so qua, ripetermi, sennò diventerai monotono. Comunque ragazzi, detto questo, vedete, qua abbiamo un convertitore, abbiamo il volano, non abbiamo il convertitore, ma comunque è un cambio automatico. Cambio automatico poi, il CVT, se si può chiamare automatico, perché ve l'ho già spiegato, è un cambio operazione continua, quindi, diciamo che è più finta la cambiata che altro. Però ragazzi, detto questo, i cambi automatici non tutti hanno il convertitore di coppia. Ciao ragazzi, alla prossima!